Siamo con il dottor Stefano Liuzzi, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto. Abbiamo parlato in questi incontri già precedentemente in generale di sviluppo economico, abbiamo parlato di turismo, però ovviamente uno sviluppo economico, il turismo non può realizzarsi se non vi sono adeguate infrastrutture. E allora Liuzzi parliamo di infrastrutture e trasporti. È uno dei punti dolenti di questa provincia. Allora infrastrutture, abbiamo parlato di turismo, di sviluppo economico, le strade. Se non abbiamo un sistema viario adeguato, ma anche l'estate per permettere di raggiungere le coste, di raggiungere le spiagge, di raggiungere le zone turistiche, non possiamo pretendere di fare turismo, di fare economia col turismo. Quindi una rivisitazione, quindi una programmazione seria dell'assetto viario del territorio. Io parlo per Taranto, per la provincia di Taranto, e chi va a mare nel versante orientale, da Taranto verso Torre Colimena per intenderci, sa le difficoltà che si incontrano per arrivare, per raggiungere quei posti turistici e le difficoltà che ci sono per parcheggiare. Quindi infrastrutture che sono strade, sono parcheggi, ma l'infrastruttura è la stranezza che l'autostrada si ferma a Massafra e poi da Massafra si ha un problema serio raggiungere Taranto perché bisogna attraversare, superare quell'imbuto rappresentato dalla periferia di Massafra dove si creano ingorghi. Anche quello è un problema da risolvere, ma infrastrutture sono anche naturalmente porto e aeroporto. Allora, è evidente che il porto di Taranto ha bisogno di un rilancio serio. In questi giorni si sta parlando dell'arrivo di Ilport, 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 Ilport che ha promesso... Turchi di Ilport. Ilport, sì, nel loro contratto hanno promesso assunzioni per alcune migliaia di persone. Al momento sono soltanto alcune decine, quindi è evidente che bisogna stare dietro anche a questi contratti che sono in essere. Aeroporto, è evidente che c'è una direttiva europea che parla di un'impossibilità di aprire aeroporti a distanza minore di 50 km l'uno dall'altro. È evidente che Grottaglie è penalizzata dalla presenza dell'aeroporto di Brindisi, però uno sviluppo turistico serio, e ripeto, la provincia di Taranto può farlo, può permettere quantomeno una deroga o almeno l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli charter o a qualche volo di qualche compagnia low cost che potrebbe anche sceglierlo come hub locale. Quindi anche questo è un discorso da sfruttare per la certa correlazione tra infrastrutture, sviluppo, economia, turismo. Grazie a tutti.